Neanche il tempo di chiudere la stagione lirica all'Arena Sferisterio che il Comune di Macerata presenta il cartellone di prosa 2015-2016 del Teatro Lauro Rossi, realizzato con l'AMAT. Otto spettacoli, sedici appuntamenti che spaziano dai testi classici alla drammaturgia contemporanea per una città che ha sempre creduto nel teatro e che ora più che mai sta investendo sulla cultura. Noi rilanciamo sul teatro, qualcuno taglia, noi non tagliamo niente. La stagione di Macerata è un progetto di qualità che presenta un teatro per tutti, un teatro che parla della comicità e che parla della tragedia della vita, ma allo stesso tempo racconta e anche in dialogo con tante questioni di attualità, la questione femminile, la questione del lavoro, la questione Marco Bagliani con il tema della Prima Guerra Mondiale. Ci sembra davvero che quest'anno presentiamo una proposta altissima. Non abbiamo aumentato i prezzi ai biglietti, non abbiamo diminuito gli appuntamenti, significa che ci crediamo tanto, crediamo di poter crescere con il teatro. Ad aprire la rassegna il 27 e 28 ottobre Emilio Solfrizzi in Sarto per Signora. A novembre spazio alla danza con Tosca X, a dicembre Don Giovanni con Alessandro Preziosi. Sono vari percorsi, uno curioso è questo ritorno della generazione dei quarantenni a confrontarsi con i classici, che è una cosa che in passato non accadeva così frequentemente. Penso al lavoro che Alessandro Preziosi ha fatto su Don Giovanni di Moliere, penso al lavoro di Stefano Accorsi sul Decameron con Marco Bagliani, che prosegue il percorso iniziato su Orlando Furioso. Ma anche il lavoro molto curioso, devo dire pieno di vitalità, di Pier Francesco Favino, che approccia Goldoni, il suo servitore di due padroni, attraverso una riscrittura molto divertente, anni 50, inglese, diventa servo per due. Chiude il 3 e 4 aprile, 7 minuti, con Ottavia Piccolo. Il lavoro è importantissimo che Ottavia Piccolo, protagonista, Alessandro Gasma, regista, e Stefano Massini, alla scrittura, hanno dedicato al problema del lavoro attraverso questa storia di queste 11 operaie messe di fronte alla condizione di crisi della propria fabbrica. Appunto mi sembra che queste otto possibilità sono davvero molto diverse e a conclusione il pubblico avrà fatto un passettino in più. Speriamo, ce l'auguriamo.